Sei sicura che il tuo pavimento sia veramente pulito? Certo, c'è il pulito di Lisoform Casa, pulito sicuro perché disinfetta. Ogni giorno pulisco con Lisoform Casa e ho il pulito sui pavimenti, pulito sulle piastrelle, pulito su tutte le superfici lavabili. Lisoform Casa mi garantisce un pulito sicuro perché disinfetta, in cucina e in tutta la casa. Lisoform Casa, pulito sicuro perché disinfetta. Seguire attentamente le avvertenze.